il tutore che presentiamo oggi è un tutore costruito in acciaio armonico e termoplastico e dallo scopo di ripristinare l'estensione in un dito che presenta una rigidità in flessione a seguito di un evento post chirurgico o traumatico il tutore si applica in patologie dove è presente una rigidità in flessione dell'interfalangea prossimale che determina un accorciamento di capsula e legamenti il tutore viene indossato principalmente di notte ma può essere indossato anche di giorno è comodo e facile da gestire il paziente può regolarlo in autonomia verrà applicato direttamente sul dito e tramite un velcro ne regolerà la tensione è importante che questo tutore venga eseguito in un centro specializzato come quello del Paideia International Hospital perché all'interno di esso vi sono terapisti specializzati in mano che sapranno indirizzare il paziente durante la riabilitazione nella maniera più specifica possibile Grazie a tutti